Political Map parla di sei macro-argomenti di cui sentiamo parlare spessissimo Europa, immigrazione, debito pubblico, essere cittadini italiani, donne e ambiente Il titolo secondo me funziona molto bene perché rende l'idea appunto di Una mappa dell'orientamento ed è un po' quella la funzione del libro Dare gli strumenti al lettore per orientarsi all'interno di questi sei macro-temi Del dibattito pubblico che vengono affrontati Il capitolo più difficile da scrivere è stato quello sulle donne Perché in generale credo che sia la tematica per me più complessa da affrontare Perché se gli altri hanno tanti argomenti oggettivi Forse il capitolo sulle donne che in realtà è un capitolo su gender gap, uguaglianza di genere È un pochino più soggetto a interpretazioni personali A vari magari correnti di pensiero eccetera Quindi è quello per cui dare una visione oggettiva è stato più complesso La stesura del libro non è stata semplicissima Perché l'obiettivo di rendere facilmente fruibili degli argomenti complessi dell'attualità Richiede un lavoro di studio, di preparazione piuttosto approfondito E dopo una parte di ricerca comunque articolata c'è stata la parte di semplificazione Perché political map parla in modo semplici di temi complessi Quindi questa traduzione in linguaggio colloquiale, in linguaggio semplice Ha richiesto un po' di lavoro Alla fine di ogni capitolo viene data un pochino un'interpretazione mia Rispetto a quelle che possono essere le evoluzioni della tematica affrontata Relativamente all'Europa una delle possibili evoluzioni dell'Unione Europea È quella degli Stati Uniti d'Europa Cioè di una federazione di stati sul modello degli Stati Uniti d'America Che veda gli stati nazionali europei cedere un po' di sovranità all'Europa E secondo me paradossalmente questo è un concetto abbastanza sovranista Perché cedere sovranità all'Europa per quanto riguarda tematiche come ad esempio La difesa o la gestione del bilancio, la tassazione Significherebbe che poi gli stati membri possono concentrarsi meglio Sul mantenere le identità nazionali Quindi le tradizioni e valorizzarle Essere cittadini italiani significa essere dei privilegiati oggi Anche ad esempio banalmente il passaporto italiano Il passaporto di un paese membro della comunità europea Paragonato ad esempio a un paese come la Turchia Beh ci permette di fare un sacco di cose Di viaggiare, di lavorare anche all'estero Essere degli emigranti che vivono in Italia Beh questo è un tutt'altro paio di maniche La legge attuale che regola la cittadinanza italiana È assolutamente obsoleta ed insufficiente L'unico modo di avere una società che egoisticamente Tragga beneficio dai migranti che ci sono ed esistono E non si possono ignorare È quello di integrarli E quindi partire da una legge che li accolga e li integri Credo che sia il primo passo Grazie a tutti